In Milkright Interpulse pensiamo diversamente. Il nostro focus è nel processo dell'estrazione del latte e, in generale, nel benessere dell'animale, con l'obiettivo di garantire una mongitura efficace per l'animale e l'allevatore. Questo obiettivo ci guida verso nuove aree, nuovi prodotti e nuovi servizi, cambiando in meglio i principi già conosciuti. Un esempio di innovazione Milkright Interpulse che sta rivoluzionando la mongitura è il sistema Impulsair. L'aria viene introdotta nel sistema dall'alto, dalla testa della guaina, ed è per questo che è rivoluzionario. Estrae il latte dal capezzolo in modo più efficace ed evita il riflusso del latte stesso. Inoltre, permette al vuoto di fare la propria parte, estrarre il latte dal capezzolo senza danneggiarlo. La guaina rotonda convenzionale si chiude nei due lati. Questo può pizzicare il capezzolo all'estremità, specialmente nelle mandrie che presentano capezzoli di dimensioni differenti. È per questo motivo che è difficile dimensionare la guaina con il capezzolo. Spesso le guaine rotonde si staccano e cadono. Questo rallenta la mongitura e danneggia i capezzoli. Le guaine triangolare invece funzionano diversamente. La chiusura infatti è più uniforme e non pizzica. Grazie a questa particolarità, le guaine triangolari calzano perfettamente diverse misure dei capezzoli e hanno una migliore tenuta che aiuta ad accelerare la mongitura e migliora la salute del capezzolo stesso. Con meno movimento di aria tra la guaina triangolare ed il cannello si ottengono una chiusura ed un'apertura più delicate. Ottimale per il capezzolo. Il problema principale con le guaine convenzionali è che l'aria entra nel sistema tramite il collettore. Con l'apertura e chiusura della guaina si creano delle fluttuazioni che generano riflusso del latte. Questo è il motivo per cui i capezzoli sono umidi dopo la mongitura. Con Impulse Air l'aria è introdotta nel sistema tramite il foro nella testa della guaina, quindi dall'alto. Questo garantisce una pressione di vuoto nel sistema che evita il riflusso del latte. In questo modo i capezzoli sono asciutti dopo la mongitura e il vuoto può fare la propria parte, cioè raccogliere il latte senza danneggiare il capezzolo. Questa particolarità dell'Impulse Air garantisce al gruppo una presa migliore rispetto alle guaine convenzionali. Si ottiene quindi un miglior deflusso del latte, riducendo gli effetti negativi del vuoto nel capezzolo e garantendone una migliore salute. Ma vediamo un esempio concreto di come Impulse Air aiuta ad evitare il riflusso del latte. A sinistra abbiamo una guaina convenzionale non ventilata e a destra abbiamo la guaina Impulse Air con il foro nella testa della guaina. Aggiungendo un semplice colorante puoi vedere molto chiaramente come l'aria spinga via il latte dal capezzolo. Tenendo i capezzoli asciutti puoi prevenire la cross contamination che aiuta a ridurre le mastiti e il conteggio delle cellule somatiche. Recentemente in Europa è stata aggiunta alla gamma Impulse Air la guaina con foro più stretto della serie IP20, ideale per le mandre di alta genetica e progettata per capezzoli più piccoli e corti. Dunque cosa dimostrano i risultati dei test? Dopo verifiche in differenti aziende agricole, diverse condizioni di mongitura e con diversi tipi di guaine, i risultati mostrano la migliore salute del capezzolo e con una mongitura più veloce non se ne riscontra arrossamento. Il latte viene agitato meno e Impulse Air permette di ridurre il peso del gruppo. Come in tutte le migliori idee, il concetto è semplice e rivoluzionario. Assicura che il vuoto del sistema non danneggi il capezzolo. Gli allevatori possono ora avvalersi di una mongitura più veloce e al contempo di una miglior salute del capezzolo, senza compromessi. Una migliore salute del capezzolo significa un conteggio di cellule somatiche inferiore e una riduzione dei casi di mastite. Gli operatori di mongitura e gli animali sentiranno certamente una netta differenza con il sistema Impulse Air di Milkright Interpulse. Milkright Interpulse è stata onorata di ricevere il premio Prince Philip, assegnato alle aziende in continua innovazione. Le vacche non sono infastidite dal gruppo di mongitura e rilasciano subito il latte, quindi non abbiamo difficoltà nell'attaccare gruppi. Gli animali non scalciano. Dopo 4 mesi i segni di compressione sono spariti, i capezzoli sono meno arrossati, sono asciutti e gli sfinteri sono guariti. Insieme al mio veterinario ispezioniamo la sala di mongitura dopo ogni check di gravidanza. Controlliamo le estremità dei capezzoli per verificarne la loro salute. Da quando usiamo guaine Impulse Air abbiamo notato un netto cambiamento e le estremità dei capezzoli stanno gradualmente migliorando. Sì, i gruppi di mongitura sono decisamente più leggeri di quelli utilizzati in precedenza, quindi diventa più facile per me usarli. Il nostro principale problema era legato all'ipercheratosi ed è stato significativamente ridotto con l'utilizzo delle guaine triangolari Impulse. Attualmente non abbiamo più questo problema e la percentuale di mastiti è stata drasticamente ridotta. Abbiamo notato che le condizioni di salute del capezzolo sono migliorate. L'estremità è ora morbida e pulita e a fine mongitura i capezzoli sono asciutti. Monitoriamo le cellule somatiche perché siamo pagati in base a questo e siamo scesi da 300 a 150 o anche meno da quando usiamo questo sistema. Attualmente nella nostra cooperativa raggiungiamo il contributo massimo. Impulse Air ci ha garantito un beneficio sulla salute del capezzolo, non abbiamo congestioni e non abbiamo tagli sull'estremità. Il servizio esclusivo di Milkright Interpulse prevede impostazioni perfette dei parametri di mongitura con opzioni personalizzate per il tuo allevamento attraverso un processo di misurazione dinamico. La ricerca è al cuore di quello che facciamo. Abbiamo investito in quanto di più evoluto per i test, in strutture e per lo sviluppo dei prodotti. Lavoriamo inoltre con centri di ricerca prestigiosi. Il nostro focus sul processo di estrazione del latte dal capezzolo ci guida verso nuovi sistemi innovativi. Milkright Interpulse rende la mongitura più semplice per l'allevatore e l'animale. Grazie a tutti.